Farmacisti al lavoro per le dosi vaccinali è il dietro le quinte della lotta al covid. Da un mese ormai più di 60 farmacisti delle farmacie private e pubbliche della provincia di Salerno collaborano con quelli dell'ASL Salerno nelle fasi di allestimento dei vaccini per cui è prevista obbligatoriamente l'opera professionale del farmacista. Recependo quanto stabilito nell'accordo regionale, l'ASL Salerno, Federpharma Salerno e Astofarm hanno sottoscritto un accordo per cui i titolari, i direttori e collaboratori di farmacie volontariamente a titolo completamente gratuito sono presenti nei centri vaccinali consentendo una maggiore attività su tutto il territorio provinciale. È una grande soddisfazione professionale, sociale ed umana per i colleghi poter dare il proprio contributo collaborando con i farmacisti ospedalieri per l'allestimento dei vaccini. È dichiarato Dario Pandolfi, presidente di Federpharma Salerno, una sinergia nata ad aprile quando per difficoltà logistiche, dovute alla frana in costiera amalfitana, i colleghi di Positano hanno iniziato a collaborare con il punto vaccinale locale. Successivamente prosegue Pandolfi, anche con la fattiva e consueta collaborazione del Dipartimento Farmaceutico dell'ASL Salerno, diretto dalla dottoressa Maria Rosaria Cillo, è stato stilato un elenco di colleghi che svolgono in maniera gratuita la loro attività professionale su tutta la provincia di Salerno. La presenza dei farmacisti territoriali è garantita anche nei giorni festivi e in molti casi i isolari direttori alternano la presenza nei centri vaccinali con i colleghi collaboratori delle farmacie, continuando a garantire comunque sempre l'assistenza farmaceutica di ciascuna farmacia, ha sottolineato con orgoglio il vicepresidente di Federpharma Salerno Gigliola Pistolano.